Possiamo mai parlare di diritti umani e non andare a cercare Alessandro Di Battista per parlare con te? Caro Luciandro, bisogna che mi metti in piedi. Caro Alessandro Di Battista, che sei sparito dalla circolazione, tu eri quello che per garantirsi credibilità verso la grande massa di delusi del partito democratico, la grande massa di elettori di sinistra di questo paese, la sinistra vera, quella che sta da parte della classe operaia e degli oppressi, dei poveracci, dei piccoli imprenditori, della povera gente, tu sei quello che ci hai tenuto a informare tutti noi del tuo master in diritti umani e ci hai tenuto a farci sapere che tu sei andato in Guatemala, in Nicaragua, in Messico a vedere com'è la democrazia diretta di altri popoli. Stammi bene a sentire Alessandro, se tu hai un master allora sappi che io sono professoressa emerita di diritti umani e in quanto tale ti devo informare a te e agli altri cialtroni come te del Movimento 5 Stelle che la signora Alicia Raso ha inoltrato presso la Corte per i diritti umani, ha inoltrato una denuncia contro il vostro governo Conte per avere violato i diritti umani e ti informo anche di un'altra cosa a te Alessandro e a tutti gli altri cialtroni che il Presidente della Repubblica ha impedito che nell'ultimo decreto rilancio fosse prolungato di altri sei mesi l'emergenza sanitaria, per altri sei mesi la voleva, d'accordo? Ed è stata definita questo tentativo, un tentativo di colpo di Stato che verrà reiterato probabilmente a giugno proprio perché quando il Presidente della Repubblica modifica un decreto c'è un iter parlamentare per cui deve essere ridiscusso quello che ha messo in discussione il Presidente della Repubblica e deve essere poi rimandato al Presidente della Repubblica che a quel punto non può più rifiutarsi di firmare e voi lo sapete benissimo, lo sa benissimo quel criminale cialtrone del Conte, ok? Ora, caro Alessandro di Battista, tu hai il merito di avermi convinto a bruciare la tessera elettorale e non votare mai più, namaste, grazie caro di avermi fatto questo torto mi prendo la mia responsabilità di essermi fatto ingannare da un pezzo di merda come te e voglio porti queste domande, caro di Battista ricordati che tutti noi avremo un appuntamento importante la morte, la morte, la morte quando saremo lì, nell'istante della nostra morte posto che si sia in grado di avere un po' di lucidità posto che l'agonia ci permetta di avere un ultimo pensiero è opportuno farsi una domanda in quel momento e si è da soli, mio caro si è da soli a rispondere non importa quanti titoli onorifici hai non importa quanti amici, non importa la famiglia, non importano i vicini di casa non importano i soldi, non importa il consenso non importa un cazzo di niente in quel momento lì uno deve essere in pace con la propria coscienza questo è il mio impegno quotidiano questo è il mio dharma quotidiano questo è quello che io faccio ogni giorno la mia autodisciplina quella di agire, parlare, comportarmi in modo che se avrò la fortuna di avere un ultimo pensiero quello sia essere in grado di rispondere alla domanda sei in pace con la tua coscienza Cristina e la risposta sia sì, mi sono applicata al 100% con onestà senza chiedere niente in cambio a nessuno bene tu Alessandro puoi dire altrettanto? sei sicuro di poter rispondere a quella domanda alla fine della tua vita di poter dire io mi sono comportato coerentemente con ciò che ero e il tuo figliolo che porta il tuo cognome sarà infamato nei libri di storia come il figlio di chi ha tradito i propri elettori eri tu, caro Dibba che tenevi alto il tasso di interesse sui 5 stelle ora sei sparito che stai facendo? stai lavorando per il falso quotidiano? fatti vivo Dibba vogliamo sentire che cosa hai da dire ora vienci a raccontare quanto è bella la democrazia diretta la tua democrazia diretta era una truffa ciao Dibba